In questa bottiglia c'è scritto Vuoto a perdere Vuoto a perdere E in questa Questa ha scritto Vuoto a rendere Vuoto Ragazzi ogni tanto vi sentite Vuoti Quante persone sono Vuote a perdere Non contano nulla Che ci siano o che non ci siano Anzi a volte se non ci sono è meglio ancora Vuoti A perdersi E quante volte Ci lasciamo un po' andare Quando siamo tristi E abbiamo qualcosa che non funziona Ci perdiamo un po' Ci chiudiamo in noi stessi Non ascoltiamo più gli altri Vuoti A rendere Forse Forse mi dice che Anche il vuoto Si può rendere a qualcuno Qualcuno Me lo può riempire Quel vuoto Io l'ho svuotato Correndo dietro a mille cose A volte Ho fallito In qualche progetto Non sono riuscito A fare le cose che volevo Avevo un sogno Che si è sbriciolato Tra le mani Si è infranto Ma Qualcuno può riempire Il mio vuoto Ecco ragazzi Il Vangelo di oggi Sembra dirci Vuoi essere un vuoto A perdere O vuoi essere un vuoto A rendere Perché nel Vangelo di oggi Gesù Viene rincorso Da un tale Qualcuno dice Un giovane Che va da lui E gli presenta Il suo vuoto Non chiede a Gesù Dei beni materiali Delle cose Che possano Riempirgli la vita Chiede Una Cosa Bellissima E grandissima Che cosa devo fare Per ereditare Ottenere La vita eterna Non per guadagnarla Sa benissimo Che solo Dio Può donarcela Ma che cosa Devo fare Aveva un vuoto Dentro Si era riempito Di cose E si era dimenticato Che noi siamo Programmati Per amare Non per accumulare Dei beni Quando accumuliamo Dei beni Siamo malati E allora Gesù gli chiede Ma Hai osservato I comandamenti E gli fa Un elenco Di tutti i comandamenti Tranne quelli Legati a Dio Ricordati Di santificare Le feste Non bestemmiare Avrai un solo Dio No Onora tuo padre E tua madre Non commetti Tutti i comandamenti Che sono relazione Con le persone Quasi a dirgli Tu sei in sintonia Con Dio Quando osservi I doveri Verso gli uomini Verso gli altri E lui Gioisce Certo Queste cose Le ho fatte Fin da bambino Però Seguire la legge Non gli ha riempito La vita Neanche seguire I comandamenti Riesce A riempirci La vita La vita Si riempie Se ti svuoti Delle tue cose E diventi Un vuoto A rendere E lasciarti Riempire Da Dio Ecco perché A un certo punto Gesù gli chiede Una cosa grande Ti manca solo una cosa Vuoi riempire Quel vuoto Che hai dentro Vai Vendi tutto Quello che hai E dallo ai poveri Ma lui Se ne va triste Perché aveva Molti beni Sembra dirci Posso andare A messa Partecipare Ai gruppi Pregare sempre Ma poi Quando mi viene chiesto Di condividere La mia bicicletta Il mio computer L'ultimo mio gioco Le cose che ho Diciamo No guai Questo non si tocca È mio Il mio e tuo Hanno rovinato la vita Sapete ragazzi Ecco Ti manca solo questo Dice Gesù Vai Vendi quello che hai E dallo ai poveri Ma lui se ne andò via triste Ti manca Ciò che dà senso Alla tua vita Investi tutto Sull'amore Gli dice Gesù E avrai un tesoro In cielo Dai Ai poveri Sapete Come è coniugato Il verbo Amare Al futuro Mi sembra Che faccia Dare Io darò Tu darai E gli darà E il verbo Amare Sapete ragazzi Vendi Tu non sei Ciò che hai Tu sei Ciò che dai Molte volte Le persone Riconoscono Gli altri Per quello che hanno Ma ci tocca Il cuore Riconoscere Gli altri Per quello che danno Per la loro Disponibilità Per il loro servizio Per il loro amore Verso gli altri Ma Gesù Gioca D'anticipo Fissandolo Lo amò Bello Lo ama Prima ancora Di sapere Se lui Lo seguirà Potrebbe Rimanere Deluso È bello Questo Sguardo Di amore Perché Non chiede Niente In cambio Ti amo E basta Tu puoi Dar tutto Al povero Puoi tenerti Tutto Dio Continuerà Ad amarti Però Tu Non riempirai Il tuo vuoto Perché lo può riempire Soltanto lui Non rimaniamo In ostaggio Delle cose Ecco perché Gesù dice È più facile Entrare nel regno Dei cieli Se dai ai poveri È più difficile Che un ricco Passi per la cruna Di un ago Ui Come si fa a passare Per la cruna Di un ago Però quante volte Ragazzi Quando ci sono Degli impedimenti Noi vorremmo Allargare La cruna Del lago Renderla Larga 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 Per poterci Passare Non è che Facciamo la dieta Noi Ci restringiamo Noi Ci togliamo Le cose Noi Per passare Nella cruna Del lago No Cerchiamo di Allargare La cruna Eh no Gesù dice Non è questo Per essere felice Dice Gesù Devi avere Un metodo Certo Una regola Un comandamento Ma non è sufficiente Devi arrivare Fino al dono Di te stesso Occorre fare Un cammino Di liberazione Per essere felici Ed essere Veramente felici E la prima liberazione È proprio Dalle cose Allora ragazzi In questo bellissimo Brano di Vangelo Di sguardi E gente che si stupisce Vuoto a perdere O vuoto a rendere Vedete ragazzi C'è un vuoto Dentro di noi A forma di Dio Nel cuore di ogni persona Non può mai essere riempito Da nessuna cosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti